I vertici di Ene e di Montedison, con i quali ci fu un rapporto anche di amicizia, ebbero a rivelarmi che quel tipo di industrializzazione in quel territorio e in quella localizzazione non poteva avere vita più lunga di vent'anni. L'iniziativa di Ottana è stata voluta dal governo e dalla regione sarda per cercare di togliere dall'isolamento sociale ed economico la zona centrale della Sardegna, tradizionalmente da sempre isolata dal resto del mondo. La scelta evidentemente non è stata una scelta economica, è stata una scelta sociale. Per cui essi stessi dicevano, occorre che la classe politica pensi agli altri settori della vostra economia per tempo. La scelta La scelta La scelta La scelta Grazie a tutti.